Insieme per il wedding, un nome che venerdì 26 marzo ha portato in piazza Castello a Milano, in contemporanea in tante città italiane i rappresentanti del settore matrimoni che nell'ultimo anno, a causa delle pesanti restrizioni per i matrimoni, denuncia un calo di attività dell'80%. Vestiti da spose, con i rappresentanti di tutte le realtà che ruotano attorno alle nozze, ristoratori, fioristi, fotografi, musicisti, wedding planners, sale e ricevimenti chiedono un protocollo per tornare a lavorare in sicurezza. Noi siamo comunque per raccogliere l'umore di tutta una filiera che da un anno è ferma, che non raccoglie soltanto coperti, ristorante o caffè serviti al banco, ma raccoglie comunque l'entusiasmo di centinaia, migliaia di sposi. I matrimoni sono crollati dell'80%, immaginate quante spose anche, che qui sono a rassembrare non soltanto gli atelier di abiti e tutti i partner che partecipano all'iniziativa, ma solo a rappresentare anche delle spose, delle spose vere che stanno aspettando loro, con la loro famiglia, il loro entusiasmo mai deflagrato e stancato insieme ai loro invitati. Per cui è un momento sociale che crediamo deve avere una voce unita. Da 14 mesi il nostro settore è completamente fermo, fermo per decreto e penso che abbiamo il diritto di sapere quando potremo ricominciare a lavorare in sicurezza. È un mondo che in Italia vale tra i 4 e i 5 miliardi di euro, quindi più il turismo indirettamente, quindi è un settore molto forte, molto frammentato purtroppo, che però deve vivere, deve sopravvivere e deve poter lavorare. Chiediamo di tenere in considerazione il settore e di dare delle date certe per la ripresa e per ricominciare a lavorare, perché è un settore che vive di programmazione, non è che da un giorno all'altro si può riprendere. Ci si muove un anno prima, alcune coppie hanno già spostato 3-4 volte e non si può andare avanti così. Percentualmente abbiamo un fatturato in calo dell'80% circa. Cosa chiedereste al governo? Di darci delle istruzioni di cosa fare, di darci delle istruzioni per dire da domani si parte così, perché anche i nostri sposi hanno un bisogno di sapere come andare e cosa fare. Da un anno che sono ferma, esibirmi per le persone in pubblico è la mia linfa vitale, quindi ho veramente bisogno di poter ricominciare a esibirmi, chiaramente questo è un periodo sappiamo molto difficile, ricominciare in sicurezza, secondo me si può fare, contingentare le persone in sicurezza però ricominciare a lavorare, perché abbiamo bisogno tutti, musicisti, il catering, i bar, i ristoranti, gli operatori dei matrimoni, tutti quanti abbiamo bisogno di ricominciare.